Lo scorso anno si sono ammalati di influenza oltre 5 milioni di italiani. Per quest'anno la stagione dovrebbe essere più tranquilla, sostengono all'Istituto Superiore di Sanità, anche se sono attesi 4 nuovi virus che infastidiranno il nostro inverno. Faranno capolino a novembre con sintomi inconfondibili, febbre alta improvvisa, tosse, mal di gola, brividi, dolori muscolari, inappetenza. Non vanno curati con antibiotici a meno che non ci siano complicanze. La sorveglianza del Ministero della Salute, dei casi, della circolazione dei microbi è partita il 15 ottobre. attraverso un sistema chiamato Influnet, basato sulle segnalazioni di un certo numero di medici di famiglia, i cosiddetti sentinella. I quattro virus attesi sono compresi comunque nel vaccino antinfluenzale. Regione Liguria sta per avviare, come ogni anno, la sua campagna di vaccinazione. Quest'anno gran parte del compito di informazione sarà dedicato ai medici di medicina generale e ai pediatri. Il vaccino sarà offerto gratuitamente alle persone da proteggere, chi ha compiuto 65 anni, le donne nel secondo e terzo mese di gravidanza, bambini e adulti con patologie croniche, operatori di servizi pubblici, forze di polizia, vigili del fuoco e veterinari.